Tre punti di platino per l'Arezzo calcio femminile che vince 3 a 2 sul campo del Pavia e raggiunge la testa della classifica complice il contemporaneo pareggio del Pinerolo in casa delle Azalei. L'impatto con la gara non sembrava promettere nulla di buono dopo appena due minuti dal fischio d'inizio, De Vecchi sblocca il punteggio a favore delle padroni di casa. La reazione delle Amaranto non si fa attendere al settimo, Tuteri ristabilisce la parità con un bel tiro da fuori. L'Arezzo cresce al ventitresimo, sigla l'1-2 con Ceccarelli sugli sviluppi di un corner. Il Pavia tenta di pareggiare prima dell'intervallo ma Aquilò fa buona guardia. La partita prosegue con un avvio di ripresa giocato su buoni ritmi nel quale l'Arezzo cala il Tris con Pasquali ancora su azione da calcio d'angolo. Neanche il tempo di esultare che Gianni accorcia le distanze 3-2. L'ultima mezz'ora di gioco è tutto un susseguirsi di continui ribaltamenti che rendono la partita molto tirata e bella da vedere ma il punteggio resta invariato. L'Arezzo può festeggiare.